Ciao a tutti, io sono Alella, io sono Lisa, noi siamo Widi, voi siete Widers ed oggi siamo al nuovo video, il video di oggi io non lo volevo fare, quindi Luisa spiega tu perché io neanche lo volevo fare, io giusto spiego io le cose. È molto semplice, Vale ha perso una scommetta, quindi ora deve pagare perché in pratica ci ha dovuto trovare sua madre e quindi quale è il momento migliore per sbirciare il telefono di Vale se non con la madre? Magari non questo, cioè io non lo so. Non voglio perdere tempo, voglio subito iniziare con il telefono di Vale che ora mi dovrà consegnare sbloccato e niente vi ricordiamo se volete essere salutati in un prossimo video di seguire queste regole qui, trovate anche sotto nel video commento e iniziate subito lasciando un bel mi piace sotto questo video. Questo è il mio telefono e non ho avuto neanche il tempo di eliminare le cose dato che appena perso la scommessa Luisa l'ha sequestrato, l'ha preso, non l'ha sbloccato perché non sappia il codice ma l'ha sequestrato, quindi non sono deciso di eliminare niente, quindi devo solo sperare la fortuna che Luisa non preverà le cose giuste, che non andrà a cercare i luoghi giusti, io ci spero, non è molto sveglia quindi può essere che non sarà un guaio questo video. Dall'altro hai cambiato il codice, è proprio infame perché prima aveva il codice che io conoscevo, invece dopo l'ultimo video che ho messo ha deciso di cambiare il codice. Quindi ok, dini il telefono, vedi un po' cosa vuoi fare, io vi farò più in qua perché così le cose che Luisa troverà appena hanno occhi ai lati. Grazie Vale, sei davvero molto giudicata, proprio quando c'era mia madre dovevi fare questo video, cioè doppia cosa. Una cosa buona, dopo tanti scherzi e poco di curiosità mi interessano, tra l'altro un po' per la privacy, un po' perché ci sono sempre password e cose mi interessano in modo particolare sbriciare un po' nelle tue storie, nelle tue situazioni. Allora andiamoci a intrigare un po', che mi fai vedere Luisa? Allora Vale, io direi, dato che lui non ha avuto il tempo di cancellare niente, cosa c'è di meglio che i direct di Instagram? Ma perché? Vabbè dai, sì, ci stanno. Su Instagram si sa che tutti scrivono delle cose incredibili e Vale mi ha parlato varie volte di certe persone che scrivono cose parecchio strane. L'immagino. Quindi, facciamo leggere un po' alla madre cosa scrivono. Ma perché? Se noi non ce n'è bisogno di tutta sta cosa. Allora, Instagram Vale, state non le dalle. Leggi tu che io sto senza occhiali e non riesco. Vai nel... Richiesta di messaggio? O principale? Dov'è meglio? Benissimo alle due. Allora, richiesta di messaggio, vediamola prima. Ma questa ragazza... No, questa no. ...devo dire, ha una foto per tiro molto carina. Mi sembra carina e mi sembra anche della nostra età, quindi ci siamo. C'è già una foto del genere, ma mi sembra assurda. Vabbè, è una foto in intimo. Vabbè, chiamalo intimo con uno stuzzicadenti. Vabbè, dai, non sono questi dettagli. Ovviamente voi le foto non le vedrete, però vi è ragione di privacy per le ragazze. Però vi diciamo molto. Vabbè, capisco perché non l'hai voluta cancellare, perché io l'avrei cancellata. Anche perché questa non sta bene, Vale. Sta proprio puro. Ok, allora, vabbè, voi state leggendo qui la chat. Ovviamente sarà censurato. Ve la riassumo giusto in dettaglio leggero. In pratica questa ragazza dice che vorrebbe farsi legare da parte. Non so perché questa cosa, io non c'entro niente. Cioè, lei mi ha scritto, non ho manco risposto. Raga, aveva visto troppe 50 sfumature di grigio. Evidentemente ti ha preso per 100. Per 50, questa è arrivata a 100. No, Christian, Dorian. No, Dorian. Cosa ne pensi di questa ragazza? Secondo te è una potenziale futura fidanzata? No, lei, in casa non la voglio. Questa non me la fa vedere proprio perché già ti basti tu con la testa così. Vabbè. Ma io che c'entro. Vabbè, non hai neanche cancellato. Eh, 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 eh. Vabbè, diamo qualcun'altro. Già abbiamo dato troppa importanza. Vediamo qualcun'altro più intelligente. Ok. C'è un'altro più intelligente. Vediamo un po'. Questa ragazza mi sembrerebbe molto intelligente perché lei non si esprime a parole, ma fatti. Infatti, qui vediamo un bellissimo video. Io lo so già che vi lo so. Questo voi non lo potete vedere perché è eccessivo. Comunque questa ragazza, vi racconto, in questo video sta twercando. Sta dimostrando delle arti, raga. Ma è bravanza. Vai, fai vedere la mia madre. Eccola qua. Vai, play. Però è brava a ballare. È brava. E dire le skills. Tanto dire il mio nome è scritto sul sedile. Non so se è ridicola o cosa. Cioè, immagino a me. Mi sto immaginando alla sala. Ma questo è un ballo. Cioè, questa è arte. Si, sta scritto pure Vale su una pianta. Vale di qua? E di lì che cosa è scritta? RIO. 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 Valerio. Valerio. Ah, Valerio. Mi credevo Valerio e Rio. Rio è pure un nome, no? Quello della casa di carte Rio. Sicuro che non è Valerio. 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 Io non dico niente. Non dico niente. Non dico niente. Qualcuna ha più intelligenza. E fammi capire. Cioè... La galleria. E facciamo vedere le... No. No. Crash Royale il mio deck. No. Non è interessante. Ma come è il mio deck di Crash Royale? Eh, vediamo una cosa. Il mio deck di Crash Royale. Andiamo nella galleria. Allora. I galleria. Allora che proprio insiste. Crash Royale. Andiamo nella galleria e vediamo un po' in questa galleria. No, aspetta. Però la galleria è un po' troppo. La galleria no. La galleria... Lua, la galleria. Vabbè, ma diamo un occhio, Vado. No, lui. Un'occhiata. Vediamo qualche video. Allora, iniziamo dal primo video. Allora, ero leggermente bravo. E tantissimi anni fa. Io non mi avevo più dato tantissimo. Era a Capodanno. Beh, ma era a Felicio. Ma quello è il classico di quando si è piccoli. Che si vuole dimostrare qualcosa. Questo tipo non sapevo chi fosse. L'ho portato a caso. E gli ho fatto tutta la linguaccia. Non lo conoscevo. Vabbè, alle spalle. Perché sennò ti apriva la testa. Ma mi ha visto palese. Mi ha visto palese. No, non ti ha visto. Vado per cazzo. Menti ti avrebbe dato proprio la testa. Vabbè, cerchiamo qualche altro video, allora. Ma io li metterei. Cosa faceva Valeri invece di studiare? Madomma, ma risca. Beh, per il momento niente di troppo assicuro. E dai, lo stavo dicendo. Lo stavo chiamando. Avevo perso una scommessa. Avevo perso una scommessa. Avevo perso una scommessa. Avevo perso una scommessa. C'è anche il minonino che mi segue. Però stai magro, Valeri. Tu devi mangiare un po' di più. Vedi anche quel video. Vabbè. Ma Billy cosa stavi inseguendo? Io lo so. Lui, però questo video per farlo riannamare. Voi lo vedrete censurato. Lo vedrete vincelato. Però io l'avrei fatto vedere. Se no è un po' troppo. Il minonino segnavato. Non lo so. No, questo è simpatico. Beh, direi che quel video è stato molto divertente. Ha fatto anche a mio piacere di vedere uno censurato. Se no, è un po' accusato a parte di quel video. Io avrei evitato veramente tanto. Cioè, non lo so. Valerio, ma tu hai perso. Allora, quando lo perdi una scommessa? Deve essere male. No, voglio fare lo stesso video con tua madre. Lo voglio fare. Ma mia madre non lo sai che ti sei trasprita in Messico. Ah, in Messico. Ha preso l'aerio ieri. Ah, sì. Te lo giuro. Le vacanze. Le vacanze ti darà. Poi ormai la vado a prendere io e faremo lo stesso identico video. Stai con Jamil. Trasperita. Ho capito. Mi dispiace. Dovremmo continuare a vedere un altro video su. Allora, vediamo un po'. È certo. Che vogliamo fare. Che amiche cretine, no. Vogliamo andare da qualche parte, per esempio. Ah, guarda questo video com'è carino. È bello. Madonna. È dolcissimo. Ma dai, questo è Cile. Questo è Cile, guarda. Bellino. Ma la Mirella hai postato. Sì che l'hai postato. La Mirella è niente di breve. Quindi adesso andate a seguire subito Valerio su Instagram se posta questi video. È necessario. Vediamo pure qualche foto. Non ho già capito come ho fatto. No, vabbè. E questa è una foto con l'ultima spasimante di Valerio. Ma non è stata una spasimante. Perché lì? È bellina. Questa mi piace, mamma. Questa è bellina. Questa è bellina. È bellina. Anche più... Sembra anche più... Normale. Diciamolo. Normale. A me è normale, Valerio. Sei contento. A me è normale. Secondo me non ti piace perché è troppo normale. Ma qualche chat con qualcuna di più recente. Io ti vedevi cara. Vediamo un poco che cosa... Perché sono cose passate. Vediamo il presente che può diventare... Un po' di whatsapp. Ok. Io direi che... No, no, io direi... No, no, no. Allora. No, no, no. Vabbè. È il video. È il video. No, ma è il video. No, è una. Una sola. Mi devi dire con chi. Dimmi con chi vuoi far vedere le chat e dimmi con chi. La tua ex. Una. Dopo questo basta. Cercane uno carino. Vabbè, ora ti conosco un po' meglio. Ma non erano queste le cose che ho detto. Meglio non conoscerti. Quindi tu ti stai organizzando tu rivederti con lei perché questa è la sua ex e lui ha questo di rivederti. Ma quell'altra poi sa che tu ti vuoi vedere con quella di prima. Stai facendo una cosa in crucio. Ma non è vero. Non so che si è in crucio. Devi essere serio. Allora, mi volevo... Chiarisciti le lele... E vedi tipo... Devi prendermi un caffè con Mar perché non la vedo da tanto tempo! Dicare un caffè non lo vedi? Che ti devi prendere un caffè con tu? Vabbè, io avrei un tè avrei messo. Un caffè con me... Va be! Chiudiamo! Chiudiamo! Perché avevo voglia di un caffè. Non lo bevo da tanto! Sicuro che era di caffè la voglia. Quindi il mio affiche Collins, faremo più una cosa del genere. Odio Luisa ogni giorno e più della mia vita. Grazie Lisa. Vale, però alla prossima volta vediamo qualcos'altro. Che altro video? Che altro video? Vuoi stare due ore a vedere ogni singolo video della Galleria? Tutti mi dieci anni. Esatto. Che c'è di poco? Ok, l'ideazione del video è stata infame come poche volte nella sua vita. Per me questo video non si doveva fare. Cioè adesso mi aveva fatto imbarazzare a morte. Ottima idea. Quindi niente, speriamo a voi questo video sia piaciuto. Noi salutiamo i 3 readers. Interessante. La settimana salutiamo, non dico il nome, ma la ragazza che ha mandato il video per che ti saluto. Un bacino. No io no. Perché non la vuoi salutare? La voglio dire no. Vabbè io la mi hai salutata. Non ti saluto. Ciao, non scherzo ok. Saluta più le... Salutiamo Erika dal Giorgio. Ciao Erika. Lucia 09. Ciao Lucia. Ciao Lucia. E infine salutiamo Luca. Amato. Ciao Luca. Ciao Luca. Grazie mille a tutti, siete stati bravissimi. Vi ricordiamo che se anche voi volete essere salutati in un prossimo video di seguire questo è quello che vi trovate anche sotto nel primo momento. Iniziate subito iscrivendovi al canale perché è facilissimo. Basta il canale. In questo è un ballino di testi. Due video sono stramica fighe. Al prossimo video. Bye. 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 Grazie a tutti.